buongiorno buonasera marco pt per fitness x breve promo sul progetto di divulgazione tecnica e pratica delle alzate di potenza più qualche corollario progetto di divulgazione video corso il link sono giù in descrizione non appariranno pop up vi reputo abbastanza abili da poter utilizzare il pollice ponibile scorrere e cliccare allora forense poliandri e io abbiamo fatto un video corso patrocinato dalla fitness x del grande manager luca domeniconi che saluto ringrazio anche per l'ospitalità molto cordiale molto familiare allora di che si tratta analisi tecnica pezzo per pezzo segmento per segmento di tutte le alzate principali principali allora dominchio si è occupato di squat punk e stacco che è il suo pane quotidiano lì ha fatto un lavoro veramente a raggi x glielo riconosco forense ha fatto il lavoro sui movimenti a corpo libero chin up dip mascol up peraltro forense sorprendente per forza e tecnica un ragazzo veramente molto molto prestante io avevo un ruolo sul military press e il front squat programmazione no tranquilli non c'è il bulghero la programmazione è stata spiegata con i classici sistemi amerorussi con la pappardella volume poi la fase di intensificazione in coda e poi il periodo di tapering la solita roba che si fa da vent'anni a sta parte da quando hanno chiuso la mani pulite del fitness e per fortuna piuttosto della mani pulite con il bio e le vidiuti meglio secondo me un po di pacottiglia sovietica allora per i fan della programmazione classica questa è una vera pacchia domingo con la lavagnetta che fa che riempie le caselline quindi avete tutti i vostri r p e r i r f i g e i c a double z o e c u l o per quanto concerne poi la didattica in senso stretto il lessico utilizzato è molto fruibile non ci siamo dilungati con tecnicismi non ci siamo dilungati con citazioni accademiche o studi riportati abbiamo dato esattamente le informazioni essenziali per garantire un pronto utilizzo delle conoscenze erogate un corso girato in modo professionale una squadra di videomaker io ero microfonato in wireless trovate anche gli spezzoni di questa esperienza sul canale di domingo poliandri che ha fatto un video anche simpatico con degli off take qualche scambio gustoso tra me e lui che tanto per cambiare lo dileggiavo gli appassionati del mondo dei pesi dei bilancieri c'è proprio un ricco compendio tecnico che vi garantisce proprio di andare nel dettaglio quindi dal setup di un'alzata all'esecuzione poi passando da un esercizio all'altro ci sono tutte le analisi su la pressione sul piede nel punto specifico del piede come rilassare la spalla durante lo stacco sumo come girare la testa durante military press insomma nulla è lasciato al caso sono stati quattro giorni di riprese incessanti quattro giorni di lavoro continuo penso che il risultato finale sia veramente eccellente ho visto i primi assaggi i primi video i primi montaggi realizzati vi garantisco che questo è un lavoro che non ho visto neanche sui video al primo posto in tendenza su youtube un montaggio veramente curato al millimetro dall'audio al video passando poi per il montaggio appunto quindi la dislocazione delle scene a me non piace fare marchette non mi piace fare il venditore non sono neanche capace però questo è un lavoro nel quale ho profuso tanto impegno profuso fatica e penso che valga la pena dargli un'occhiata vi ripeto non è una cosa che faccio per me in senso stretto io ho partecipato ho avuto un compenso ovviamente da professionista quale sono da mercenario vile e schifoso quale sono però però mi è piaciuto vedere l'entusiasmo in ragazzi giovani di 30 anni che cercano di avviare una una start up si direbbe oggi non so neanche come si chiama oggi fare impresa penso che siamo vicini a una nuova era più illuminata più moderata forse senza gli estremismi dell'altissimo volume o l'altissima intensità o la sub frequenza o insomma ecco non voglio dilungarmi sono già abbastanza palloso di mio poi quando no il grandissimo videomaker che mi fa i tagli mi rende più apprezzabile fitness x marco pt check it out